Amici, in tre minuti oggi mi trovo in compagnia del sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, per parlare del successo del Carnevale 2018. Parliamo un attimo dell'organizzazione del Carnevale, come nasce in tanto l'idea? L'idea è nata tantissimi anni fa, perché ormai siamo arrivati alla 32esima edizione, però ogni anno è chiaro che l'amministrazione, con l'assessore in prima linea, ma anche la parte burocratica e tanti ragazzi che ci sostengono, già da qualche mese si è attivata per la buona riuscita della Kermesse e dell'evento. Naturalmente c'è una grande programmazione, tanti progetti che vengono messi in cantiere, per poi arrivare a questi quattro giorni, che quest'anno veramente sono stati eccezionali, come devo dire anche gli altri anni, che hanno visto tanta presenza di pubblico e le strade di Ravanusa piene di gente. Quanti carri sono stati allestiti? Quest'anno, rispetto agli anni passati, abbiamo avuto meno carri, perché ci sono stati quattro carri, ma questo è stato dovuto anche alla tempistica, perché quest'anno il Carnevale è arrivato qualche giorno prima, ai primi di febbraio, e quindi qualche ragazzo è stato scoraggiato dal tempo. Però sono stati quattro carri, sono stati seguiti dall'assessore, sono stati seguiti dal funzionario per due mesi consecutivi, i ragazzi hanno lavorato e alla fine credo che abbiano ottenuto anche un buon risultato e anche noi siamo rimasti contenti e soddisfatti del loro operato. Sono state quattro le serate, insomma, in cui si è festeggiato il Carnevale, cosa hanno previsto? Sì, sono state quattro le serate, quelle organizzate direttamente dal Comune, anche se ormai da tradizione altre due serate, con il sostegno dei privati, si realizzano nei locali, e quindi il Carnevale è durato sei giorni. Però sono state quattro serate importanti, con presenze di DJ di fama nazionale, quest'anno anche l'organizzazione ha voluto coinvolgere le associazioni locali, abbiamo avuto anche spettacoli di bambini che si sono esibiti in maschera e hanno allietato le nostre serate. C'è stato anche un certo carnescialesco il sabato, e quindi molto piacevole per la città e anche per tutti coloro che dai paesi vicini sono venuti a Ravanosa. Si può fare una stima delle persone presenti in piazza? Ma ho letto un po' di stime, qualcuno parla di diverse migliaia, sicuramente tante presenze, abbiamo avuto anche pullman che sono arrivate da Canicattì, da Sommatino, da Licata, e quindi le strade erano piene, la piazza era stracolma tutte le serate, e anche le prime serate, poi il boom è stato il martedì, la serata conclusiva, diverse migliaia di persone che sono state presenti e che hanno oltre onorato con la loro presenza la città di Tamanosa, ha anche favorito l'economia di tante attività commerciali, che sono rimasti soddisfatti, il giorno dopo ho fatto un giro tra le attività commerciali del paese, sono rimasti veramente contenti per quello che è stato e una boccata d'ossigeno anche all'economia di Tamanosa.